uno schermo piccolo buongiorno allora seduta di martedì 8 febbraio invito il segretario a chiamare l'appello prego ore 13 e 6 tra scapolara presente autorizzo la registrazione amora presente autorizzo la registrazione di napoli presente autorizzo la registrazione forzinecchi presente autorizzo la registrazione galle governale governale al microfono spento ok ha sbagliato presente autorizzo la registrazione longo palumbo presente autorizzo la registrazione romano presenta autorizzo la registrazione presenta autorizzo la registrazione 8 presenti due assenti grazie eh segretario cosa data quindi la presenza del numero legale ehm dichiaro aperta la seduta e passo al punto numero uno comunicazioni allora mh andiamo eh con una comunicazione ultima che è arrivata pochi istanti fa io vi ho girato un invito che mi è stato eh rivolto dalla seconda commissione consigliare e questo invito ehm questo invito eh riguarda appunto una eh riunione in presenza fissata per venerdì undici febbraio alle ore dieci presso il locale di piano terra del polo tecnico di Ausonia per la trattazione della proprietà inerente a via Archimede, Archimede, Corso Scina e Piazza della Pace. Stiamo parlando ovviamente degli allagamenti. Poi chiedono di stendere l'invito ai dirigenti eccetera eccetera. Quest'invito è rivolta a ovviamente alla eh consigli della commissione seconda, a eh l'assessore prestigiacomo, al capo area di Gangi, al al presidente dell'ottava circoscrizione e poi ehm c'è qualche ci sarà pure in email anche qualche qualche altro funzionario. Io vi ho girato questo invito ehm sentito anche il presidente della commissione ehm ehm Girolamo Russo eh visto appunto che eh loro eh si riuniscono in presenza e quindi per noi è un po' eh difficoltoso la eh la ehm come dire svolgere un incontro eh della della di consiglio eh fuori dai locali della circoscrizione perché siamo vincolati alla alla all'aula all'uopo destinata dice il regolamento. E quindi siccome loro si riuniscono in presenza allora a questo punto mh eh ho pensato bene anche con l'ok lo sta bene del presidente russo di estendere l'invito a voi. Quindi chi fosse interessato a partecipare a questa riunione sugli allagamenti può partecipare. È come se fosse una sorta di riunione di commissione e di consiglio ma purtroppo siccome loro no purtroppo siccome loro si riuniscono eh in in presenza e noi invece siamo ancora eh con la modalità della videoconferenza la partecipazione non può avvenire ecco eh come con la legittimità del consiglio. Quindi chi fosse libero può partecipare venerdì alle dieci. Se non che però vi devo anche dire che vi ho inoltrato in diretta una serie di mail che sono arrivate. Una riguarda eh una nota del dirigente del capo area di Gangi il quale non autorizza l'utilizzo del locale protecno in quanto in questi giorni sono avuti due dei casi positivi al covid e pertanto per precauzione già scritto occorre ridurre la presenza del personale. A seguito di questa eh a seguito di questa eh risposta del capo area di Gangi e vi è stata una contro eh replica da parte del presidente della commissione che dice eh spiace prendere atto del diniego all'utilizzo dei locali per le motivazioni adotte. Considera che anche presto plazzo delle acule si verificano di sovente episodi di positività ma che come è accorso in occasione della chiusura odierna la prassi è quella di chiudere solo un giorno per consentire la resa delle operazioni di sanificazione. Infatti già da domani il consigliere si riunirà in presenza presto palazzo di città. Per tali motivi si reitra la richiesta di utilizzo dei dei locali del polo tecnico per venerdì undici febbraio. Il mistero diciamo eh continua ovviamente la mia è una buongiorno. Autorizza la registrazione. Sì consigliere Gallè sono le tredici e undici. Quindi ovviamente ehm ci sarà un un seguito a questo scambio di mail eh per capire cosa eh si intende fare per questa riunione eh di giorno undici. Se farla in presenza in via eh via Osonia presso il pieno terra eh del polo tecnico dove peraltro già ci siamo riuniti la scorsa estate eh alcuni consigli hanno partecipato a una riunione su per quanto riguarda un isola pedonale in via in sud della Lumia oppure se questa riunione eh sarà fatta in videoconferenza o se sarà posticipata. Leggendo questa ultima nota del presidente della commissione generale russo qua si prende atto che il consiglio comunale si riunirà in presenza presso palazzo di città. Quindi ora prendo atto che il consiglio comunale si è stato detto e ribadito eh ha le disposizioni presente del consiglio comunale a questo punto anche alla luce di questa eh chiosa del eh presidente della commissione chiederò eh diciamo aggiornamenti rispetto alle modalità di svolgimento delle sedute dei dei consigli di circoscrizione perché io ero fermo al fatto che il consiglio comunale si fosse determinato in conferenza di capigruppo per trattare il piano di riequilibrio in presenza vista l'importanza estrema dell'argomento. Ora questo piano di riequilibrio è stato esitato nel bene, nel male, ma al di là di tutto questo diciamo è stato votato il piano. Quindi ora diciamo non c'è più questa urgenza di eh eh come dire eh condivisa in conferse di gruppo di vedersi per trattare un argomento, vedersi in in aula per eh partecipare in aula per trattare un argomento così importante. Quindi alla luce di questo vorrei capire eh eh dal lasciamo da 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 dai miei diretti superiori quindi dal presidente del consiglio comunale eh eh e anche dalla dirigenza del settore di partecipazione se ci sono delle degli aggiornamenti eh sulla eh sullo svolgimento delle sedute in circoscrizione o se siamo noi eh diciamo i artefici eh noi presidenti dico gli artefici della ehm della modalità eh di eh svolgimento delle sedute. Se aspetta a noi decidere o se siamo subordinati alle scelte del presidente consulare per capirlo eh e per sapere come mi do come ci dobbiamo eh diciamo come ci dobbiamo muovere. Comunque ad ogni modo io vi ho subito girato questa richiesta non appena ne sapremo di più ne saprò di più vi girerò l'email. Comunque chi fosse interessato eh c'è questa riunione eh eh venerdì poi non so in quale modalità con quale modalità si svolgerà. Ora poi per quanto riguarda ehm anche la nostra partecipazione ad altri incontri eh mercoledì scorso sarebbe dove ci sarebbe dovuto tenere la cosiddetta call conference scusa la cosiddetta call conference convocata dall'amministratore unico di RAP ingegnere Caruso per eh programmare la settimana diciamo eh questa e per esaminare diciamo varie eventuali quindi esaminare alcune ehm criticità. orbene ehm la eh eh RAP ha inviato mercoledì scorso quindi mercoledì 2 febbraio una nota che vi ho girato una nota che vi ho girato nella quale sostanzialmente ehm vi è scritto che eh se per voi va bene in questo momento potremmo interrompere le riunioni da remoto interloquendo settimanalmente via email con la trasmissione periodica e puntuale dei calendari settimanali. Poi mercoledì quindi domani come consuetudine provvederemo ad informare i media del calendario relativo alla prossima settimana. Chiedo quindi a tutti di assicurare la solita collaborazione di propria competenza e la relativa informazione sul capo a supporto di quelle che ad oggi ha garantito la RAP. E e poi nella parte iniziale si faceva riferimento al fatto che gli interventi della settimana ehm che precedente dal 7 all'11 febbraio no dal 7 all'11 febbraio che gli interventi eh eh di via Donorione di venerdì via Donorione di lunedì e martedì in via del lunedì via Lizia e via Martimia del Berseria e del dazio d'Arsidieri sono stati regolarmente portati avanti senza alcuno in top e e questo è vero nel senso che anche se noi non ci siamo visti posso dire che eh eh voi vi Donorione ne avevamo parlato via Lizia pure l'intervento è andato particolarmente bene nel senso che la RAP ha fatto la pulizia le macchine ce n'erano pochissime e quindi i residenti hanno risposto a questo appello a questo invito e hanno consentito alla RAP di lavorare al meglio. Poi successivamente c'è stata la eh martedì dove si è stato fatto l'intervento in via del perseguiere e dell'artigliere eh l'intervento della RAP è stato fatto diciamo in modo efficace eh le macchine c'è il consigliere Longo? Sì buongiorno presidente autorizzo la registrazione. Ok perfetto sono le 13 e 17 quindi eh stavo dicendo martedì si è svolta in via del perseguiere, in via del granatier, in via dell'artigliere che dovevano eh anche lì la RAP è intervenuta efficacemente la risposta ai cittadini è stata positiva perché c'erano eh poche macchine ma eh quello che posso dirvi è che la RAP eh distribuisce gli avvisi ehm eh lungo le strade non so se voi avete avuto mai modo di verificare e sono messi cartelli all'integrazione di quelli quelli fissi quindi diciamo mi permetto di dire anche che la circoscrizione si fa carico della divulgazione a volte della distribuzione materiale degli avvisi della condivisione di tutti queste eh diciamo eh interventi di spazzamento meccanizzato quindi la risposta va via via diciamo diventando sempre migliore vista anche che il livello anche del lavoro eh si diventa sempre più eh ecco eh alto e poi eh se ricordo bene i giorni successivi ci sono stati interventi ehm quindi che riguardavano mercoledì eh giovedì e eh venerdì allora volendo andare a ehm ritroso eh eh mercoledì gli interventi hanno eh riguardato eh mi erano ricordate quali sono stati gli interventi di mercoledì magari consigliere che io in questo momento sono un po' cotto via Marchese Ugo però non ricordo il giorno. Ok via Marchese Ugo è andata molto bene eh consigliere Amore era presente e lo ringrazio è andata era presente anche in quella circostanza consigliere Schembri e devo dire la verità che in via Marchese Ugo è andata particolarmente bene perché la strada necessitava di eh pulizia e ehm ed è stata pulita approfonditamente e e devo dire la verità che anche la risposta dei residenti è stata particolarmente ehm positiva. Poi c'è stata scusate scorrendo mi aiuto con con i dispositivi poi c'è stata la via Terra Sano in giovedì c'è stata ehm no è il mercoledì c'è stata la via Notar Bartolo che è una stata abbastanza lunga ehm abbiamo era presente anche il consigliere eh Amore quella sera abbiamo visto ehm diciamo le squadre della RAP la risposta dei cittadini è stata buona ma anche lì in quel caso poi ovviamente sono state molto lunghe quindi eh può capitare che ci sia qualche macchina perché eh eh diciamo ovviamente all'estensione è abbastanza importante. Poi da ultimo venerdì la via Terra Santa che è anch'essa una strada particolarmente lunga in cui eh su ambo i lati vi è il posteggio delle auto e devo dire la verità eh che anche in quel caso eh vi è stata una risposta favorevole di cittadini. L'unica cosa che noi potremmo dire è che l'orario in cui eh iniziano le attività con le spazzatici è un orario eh che ehm diciamo eh è ehm poco funzionale perché entrando in azione diciamo eh dopo le ventitré ovviamente non sempre si riesce a completare l'intera eh l'intera eh strada. È il caso esempio eh ultimo di via principe di Paternò. Oggi si è svolto l'intervento in via principe di Paternò che è una strada ancora più lunga della via Terra Santa ancora più lungo della via d'Arbarto perché va da via alla regione siciliana a scendere fino a via libertà. Quindi pensate un po' quanto sia è stessa, quanto è stessa questa strada. Quindi ovviamente eh io ho chiesto, vi ho mandato anche un'email eh di alla RAP di fare il possibile per anticipare l'orario delle eh di azione delle spazzatrici alle ore ventidue e trenta per consentire di di completare eh le operazioni di pulizia perché un conto è eh chiedere ai cittadini di levare le auto. Va bene. Un conto è l'intervento dei vigili. Va bene laddove è necessario. Ma è evidente che a fronte di questo impegno dei cittadini del compito e del lavoro della pulizia municipale deve esserci una contropartita nella resa di un servizio che è quello di pulire approfonditamente le strade con le spazzatrici perché altrimenti chiedere ai cittadini di spostare le auto senza poi avere in cambio un servizio di pulizia con le spazzatrici è eh cosa mh che destra un po' di perplessità. È in questo caso Sevilla e Vinci Paterno appunto credo che il consigliere d'amore potrà confermare l'ultimo tratto della strada appunto non è stato ehm completato con i mezzi meccanici con le spazzatrici ma questa mattina ehm una squadra di operatori della RAP ha provveduto a spazzare. Ovviamente di mattina le macchine hanno ripresa a parcheggiare magari l'intervento manuale non è la stessa cosa dell'intervento meccanizzato quindi da questo punto di vista la necessità di iniziare con le spazzatrici entro le 22 e 30 è sempre più urgente e importante e necessario perché eh non si riesce a completare diciamo eh la strada eh prevista per quel determinato eh per quel determinato giorno. Ora eh per quanto riguarda volendo ritornare alla scorsa settimana la RAP ci ha quindi detto che non fa più le call conference quindi eh io ho risposto che comunque sarà cura del presidente della circoscrizione sulla base della proprio della propria esperienza e anche sulla base dei feedback eh che eh ricevo in consiglio dai consiglieri di comunicare ai città alla RAP e non solo alla RAP all'AMAT e ai vigili delle diciamo eh informazioni da condividere. Ho chiesto appunto di eh farsi carico della collocazione dei cartelli mobili perché alcune in alcune strade e diciamo c'è stato un ritardo nella collocazione dei cartelli. Abbiamo registrato che in via Laurana hanno preveduto oggi a mettere cartelli ed è un fatto eh positivo. Purtroppo magari eh in via albarese invece eh si sono limitati a mettere gli avvisi. Io mi auguro che per quanto riguarda eh questo episodio di via albanese non si ripeta e mi auguro soprattutto che non si ripercuota sui cittadini. Comunico che anche se non ci sono i cartelli mobili c'è sempre la segnaletica fissa che è quella che è diciamo eh in vigore giusta un'ordinanza dell'agosto del duemila e venti. Però avevamo già concordato di aggiungere anche la segnaletica mobili. Dico questo anche perché siccome ci ehm diciamo avviciniamo al giorno di mercoledì dovremmo indicare delle diciamo domani riceveremo noi l'elenco delle strade da inserire per la prossima settimana. Ora io eh non voglio fare diciamo tediarvi perché eh magari vi prendo del tempo però la settimana scorsa ho chiesto alla RAP di modificare alcune strade perché ritenevamo che fossero troppo lunghe. Ad esempio via principio Paternò la ritenevamo troppo estesa e infatti si è visto che l'intervento di Vigilio Paternò è arrivato fino a tre quarti. E ho proposto al posto della via principio Paternò via delle Croci e loro hanno detto che avrebbero tenuto conto di questa via delle Croci per il prossimo calendario. Stesso discorso riguardava via Marchesi della Bianca che avevo proposto in soluzione di Asciuti perché? Perché questa settimana fanno via principio Paternò, via le Piemonte e via Asciuti che sono tre strade tutte praticamente una confinante con l'altro. Ho ritenuto che sarebbe stato meglio diciamo abbracciare zone differenti e non sempre diciamo battere sulla stessa zona. Ad ogni modo. Mi hanno detto che terranno conto della richiesta su via Marchesi di Villa Bianca venerdì prossimo. Ora io quello che posso dirvi è che noi entro questo pomeriggio dovremmo dare una indicazione rispetto agli altri giorni della settimana, martedì, mercoledì e giovedì per fare delle proposte che possano essere prese in considerazione da questo gruppo di lavoro che poi decide le strade. Quindi siamo chiamati entro questo pomeriggio almeno a indicare delle strade visto che considero che non c'è più la call conference. Non c'è più la call conference quindi dobbiamo indicare via mail delle strade poi loro possono prenderle per buone possono invece scartarle. Questa diciamo è la zitta. Mi hanno detto che le proposte non erano state prese in considerazione perché era troppo tardi ma io la rimella ricevuta alle alle otte e ventidue alle alle nove che gli avevo già risposto. Ma come? Vabbè. Lasciamo evidentemente già avevano preparato diciamo il loro lavoro in questo in questo in questo senso. Ehm va bene. Consigliere Longo ho alzato la mano così non parlo solo io. Prego. Sì Consigliere Longo. Presidente mi scusi ma eh oggi ho problemi di collegamento no? Volevo soltanto dire che eh anche io appunto come lei ha preannunciato avevo notato che purtroppo in via albanese non sono stati collocati i segnali mobili eh di divieto di sosta e di evidenziazione del passaggio del dei mezzi RAP per per stasera e anch'io come lei eh auspico che invece questi cartelli siano eh sempre collocati soprattutto in strade come purtroppo è la via albanese in per cui ehm come notorio non 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 sono soliti posteggiare esclusivamente i residenti di via albanese eh ma anche i residenti di strade limitrofe quindi io non vorrei essere un eh cattivo profeta ma eh purtroppo penso che stasera su via albanese eh ci sarà qualche problema e purtroppo sarà elevata qualche contravvenzione in più perché ehm la ad esempio la via Marchese Ugo è ovvio che su via Marchese Ugo eh posteggiano la sera eh esclusivamente i residenti di via Marchese Ugo perché come sappiamo non non ci sono delle traverse della via Marchese Ugo eh con palazzi che i cui residenti posteggiano su via Marchese Ugo per cui eh il l'ottimo eh successo che confermo eh del della operazione dell'intervento su via Marchese Ugo è anche frutto eh di questa circostanza fondamentale e per cui è ovvio che ci saranno delle strade più problematiche delle strade più facili eh per l'intervento però proprio per quelle più problematiche come via Enrico Albanese ma come lo potranno essere sicuramente delle altre sarà eh ancora più determinante la collocazione dei dei cartelli eh mobili eh di divieto di sosta. Grazie. Sì eh consigliere appunto eh abbiamo detto esattamente la stessa cosa non hanno fatto non hanno messo la segnaletica in via Albanese nonostante invece l'avessero messa in via Principa Ternò che cadeva di lunedì quindi il sabato sono intervenuti e lo posso confermare in via Principa Ternò con la segnaletica mobile. Viceversa ehm per via Albanese sarebbero dovuto intervenire eh con qualche giorno di eh anticipo eh e non sono riusciti a intervenire. Io ho mandato una richiesta specificando solamente la via albanese e sollecitandone eh eh di eh collocarvi la eh segnaletica. Purtroppo eh non 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 è stata a diciamo messa in pratica questa eh richiesta. Lei dice bene la via Albanese abbraccia eh diverse eh strade e interseca diciamo diverse strade perpendicolari e mi 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 permetto che io ho fatto un giro anche unitamente col consigliere amore per capire appunto le strade ci sono diverse perpendicolari che noi conosciamo dalla via Raffaele alla via Orsini e poi c'è la via la via Corleo se ricordo bene la stessa via Libertà eh ci sono un po' di strade ovviamente eh si è cercato di sensibilizzare il circondario poi è evidente che se da via Libertà eh vengono a posteggiare in via in via Albanese è difficile e raggiungere il residente di via Libertà o un residente che abita in fondo a via Pasquale Calvi si è cercato anche di eh interessare la via Pasquale Calvi io quello che posso dirvi è che spero che questa questo episodio non si ripeta è capitato in passato che abbiamo sollecitato la collocazione dei cartelli e poi si è dato seguito per via Albanese purtroppo non non so perché c'è stato questo intoppo e ehm io volevo posso dirvi che di fare diciamo eh anche voi ma sono sicuro che già l'avete fatto eh di eh avvertire la cittadinanza dicendo appunto che questa sera in via Albanese c'è questo provvedimento a partire dalle ore eh ventuno fino alle tre del eh mattino cercare di eh avvertire e diciamo più possibile cittadini non devi dare appunto multe che sono eh diciamo eh non stavo dicendo fastidiose multe che sono diciamo dovute a un'assenza a una insufficiente eh comunicazione per il modo resente comunque che sapevamo che che ci può che di incontrare appunto eh ehm intoppi malintesi e e e qualche e qualche e qualche e qualche problema eh speriamo che stasera le cose le cose vadano le cose vadano bene e ce lo auguriamo che ci sia un tant'amo passaparola e non so se ci sono eh interventi suggerimenti in tal interventi in tal senso se no o continuo le 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 comunicazioni allora volevo comunicare allora intanto che è ricevuta è arrivata una richiesta di parere la richiesta di preghiere di parere e proviene dalla dottoressa Mandala eh del settore eh tributi io ho inviato ho invitato la dottoressa eh Mandala a partecipare alla di consiglio ma la dottoressa Mandala vi ho messo a corrente del suo eh ennesimo di diciamo sì di niego in questa richiesta di invito eh visto il perdurare di se il perdurante di sesto funzionale dell'ALE ehm allora cosa riguarda questo parere? Questo parere riguarda la proposta di deliberazione di consiglio comunale avvento d'oggetto variazione alliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale il pref articolo ulcita recede determinazione alliquota alla misura dell'1 e 57 per il 2022 nonché dell'1 73 per il 2023 sono tutte cose penso che siano diciamo scaturite dall'approvazione del piano di riequilibrio approvato al consiglio comunale eh e quindi io ho proceduto in tal senso eh no sto procedendo in tal senso sto provvedendo a fare un'integrazione al di là della partecipazione della dottoressa Mandala eh ma me l'aspettavo che eh declinasse l'invito perché ha sempre declinato i nostri inviti e sempre per la stessa motivazione e mh di appunto fare una integrazione quindi conto eh che domani di fare un'integrazione urgente per la seduta di giovedì 10 e poi per le altre sedute quindi integrazione all'ordine al giorno poi vi volevo anche comunicare che è arrivato un parere proprio il giorno stesso in cui o il giorno prima in cui eh si è eh eh fatta la convocazione pubblicata la convocazione per questa sessione del mese di eh febbraio questa ehm questa eh integrazione questa eh questo parere che è stato ehm integrato che è stato inserito all'ordine del giorno non è altro che una eh riproposizione del eh regolamento del regolamento eh quello sull'agevolazione economia locale eh è stato ripresentato sempre dall'area eh servizi eh imprese e quindi eh Galatiotto eh e eh di Matteo è stato ripresentato eh questo eh sì questo regolamento quindi sostanzialmente sostanzialmente ci sarà sarà stata fatta qualche modifica al eh regolamento eh che è stato oggetto già di parere sì è una richiesta è venuta l'uno febbraio poi il giorno stesso in cui mi accingevo a fare la convocazione o forse era no era il giorno in cui ci è stato l'ultimo stato dei consigli ok regolamento di provocazione contributi a fare la comune locale quindi non è una un errore da parte nostra di ri ri come dire riproposizione dello sto regolamento è un nuovo una nuova richiesta di parere eh quindi che dovremmo eh ri eh affrontare e ri eh discutere ci sarà ovviamente qualche modifica eh ok allora ehm ci sono eh e altre comunicazioni da parte vostra non ci sono eh sì presidente posso? Prego consigliere Longo prego presidente eh volevo sapere volevo chiederle se ha avuto qualche risposta qualche riscontro alle nostre richieste di informazioni in merito alla eh disapplicazione dell'ordinanza di isola pedonale temporanea di via libertà tratto piazza Croci piazza Politeama perché è passata una settimana da quando appunto ce ne siamo interessati e lei ha fatto le le la richiesta di informazioni all'amministrazione e purtroppo anche ieri come giornata domenicale eh non è stata data applicazione all'ordinanza e non c'era nessun presidio della polizia municipale che appunto garantisse l'applicazione dell'ordinanza e quindi la lo svolgimento dell'isola pedonale e non c'era ovviamente traccia dei dissuasori che in passato venivano sempre collocati a tutela dell'isola pedonale grazie sì grazie consigliere Longo ha fatto bene a richiamare questo argomento perché ancora come lei ha detto questa settimana l'isola pedonale via libertà non è stata eh fatta rispettare vista l'assenza di eh vigili a presidiare l'aria e mh stante la mancanza della eh dei dissuasori io ho chiesto ma non ho ricevuto alcun riscontro rispetto a questa anomalia legata alla ordinanza alla mancato mancato rispetto all'ordinanza di isola pedonale ora eh tornerò alla eh carica con il eh coime e e con la eh l'ufficio mobilità urbana per provare a mh individuare delle eh diciamo delle 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 soluzioni eh che siano eh sufficienti a garantire la eh riri riproposizione vi ricordate di questa isola pedonale perché da quello che ho capito io c'è una difficoltà tecnica per quanto riguarda la movimentazione dei dissuasori questo avevo già detto lo sapevamo quindi sto nuovamente contattando l'ufficio traffico per provare a eh individuare delle eh delle soluzioni a questo problema fermo resendo che bisognerebbe risolvere definitivamente questo tema dei dissuasori quindi ora tornerò alla eh carica consigliere schemi prego sì presidente volevo chiederle se è possibile tornare anche alla carica per piazza campolo e per sapere in forma magari scritta anche per poterla girare al ai condomini degli stabili di piazza campolo il qualche notizia in merito ai lavori sulla relativa piazza e che tempi ci sono perché i cantieri sono fermi in aria transennata o addirittura è chiusa da 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 aria di cantiere e per sapere che tipo di di tempistica c'è per restituire nuovamente la la piazzetta ai cittadini grazie ma consigliere allora eh da questo punto di vista eh siamo ancora eh fermi a quanto ci eravamo detti la scorsa settimana e che io sappia eh non si tratta di lavori fermi si tratta di una messa in sicurezza della di due porzioni della villa quindi i lavori non è che sono partiti si sono fermati il eh il coime oppure non so bene chi ha proceduto a transennare due ale della eh di questa villetta in via campolo per motivi di sicurezza perché la pavimentazione è gravemente danneggiata a causa delle radici dei pini o degli alberi ivi presenti quindi i lavori non sono mai partiti che io sappia si è proceduto a una eh diciamo a circoscrivere queste porzioni di della villa particolarmente danneggiate a un certo punto come l'ho detto l'altra volta credo di averlo detto se non l'ho detto lo dico questa volta eh qualcuno una mattina si è svegliato e ha transennato tutta la villa per motivi assolutamente incomprensibili visto e considerato che eh nella parte centrale non ci sono alberature quindi la parte centrale della villa ehm la pavimentazione in questa parte centrale è perfettamente calpestabile non ci sono ehm ammaloramenti buche eh quindi non c'è alcun motivo per eh per eh transennare tutta la villetta o tutto questo spazio tant'è vero che questa questa transenna lungo tutto il perimetro è durata ventiquattro ore poi eh è stata rimossa ed è stato diciamo eh solamente eh circoscritto evidente eh con una con delle transenne eh la circoscritte le parti ammalorate quindi i lavori non non sono partiti e bisognerebbe capire quali sono eh quali sono gli intendimenti dell'amministrazione per far partire questi questi lavori contatterò eh il COIME così come devo contattare il COIME scusi se cambio discorso del consigliere Schambri poi magari se le vuole replicare replicherà però mi aggancio a questa sua eh questa sua eh riflessione per quanto riguarda anche la via America Mari noi ci siamo incontrati eh la scorsa eh forse erano gli scampori dell'estate o i primi giorni dell'autunno con l'amministrazione col COIME con l'assessore col vice sindaco con Delle Calcoime eh il dirigente responsabile per quanto riguarda i lavori in via America Mari la cosiddetta Rambla questi lavori avrebbero come dire interessano una porzione della via a Mari che va da via a via Crispi a via a via Bonomo o forse alla parallela successiva non mi ricordo sono fermi eh non si è non si è completata questa opera che sarebbe dovuta essere eh completata eh mesi addietro sapevamo che c'era un lavoro al centro che doveva fare l'MG la rosa dei quattroventi vabbè tutte cose che avevamo eh preso per buone però di fatto in questo momento il cantiere è fermo si vorrebbe capire eh la motivazione quindi da questo punto di vista chiederò anche l'UMI che che è onestamente eh già eh queste persone hanno dovuto eh convivere con il eh cantiere da qualche tempo quest'area è stata liberata dal cantiere viva a Dio ora c'è un altro cantiere che per carità è meno invasivo di quello precedente ma pur sempre un cantiere è che nel lì ne come dire ne limita la fruizione e limita il godimento perché ci sono delle transenne ambo i lati della strada quindi da questo punto di vista eh bisogna capire eh quali sono gli intoppi eh eh se c'è la eh eh volontà di eh superare questi 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 intoppi perché siamo sempre eh eh punti a capo ogni volta che si inizia un lavoro non si sa quando inizia quando finisce soprattutto ogni volta che inizia il lavoro ci sono dei momenti di stasi e questo purtroppo crea un cortocircuito con i cittadini che si sentano eh assolutamente eh in come dire eh in balia eh del di di questa di questa eh stato di cose poco poco edificante quindi chiederò a questo punto anche eh i lavori per quanto riguarda eh la via Emerico eh a mare oltre che per quanto riguarda la via eh la villetta eh di via eh Campolo. Presidente? Sì mi dico. No io eh questo quesito l'ho posto perché eh lei lo sa quando transennono un'area specialmente eh di una villetta eh così malandata come questa che c'è a Piazza Campolo si ehm susseguono le eh le dicerie popolari eh che eh chissà quale cosa eh stiano facendo i privati o con chissà quale tipo di eh di destinazione verrà fatta a fine dei vori e quindi le chiedevo una risposta scritta da parte dell'amministrazione comunale per rassicurare più che altro il il i residenti che eh naturalmente sono eh sono smarriti dal fatto che eh ci sono più notizie e c'è chi dice che devono fare un un pacco giochi c'è chi dice che lo devono dare a la fiera di di Pasqua e c'è chi dice che devono fare chissà quale tipo di ehm quale tipo di di aria verde per bambini quindi io sono pure consapevole che eh secondo me è una questione solamente di ripristino del della pavimentazione ma eh quello che dico io naturalmente eh verba eh quindi mi piacerebbe che l'amministrazione alla presidenza in maniera scritta così da girare il la comunicazione alla portine alle portinerie e rassicurare la cittadinanza solo questo chiedendo poiché i lavori non siano non siano di 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 breve durata non sono consapevole come sono tutti i lavori che interessano ha finito? Ok va bene allora ehm io guardi eh eh mi 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 queste di queste ipotesi che lei ha accennato non ne ho mai sentito parlare in seno all'amministrazione eh di cambiare l'aspetto di questa villetta ma poi con quali risorse ma non lo so diciamo onestamente si è popolari io nemmeno le prendo in considerazione però sai bisogna rassicurare con qualcosa di scritto ha detto bene lei eh io mi sembra pure strano a me anche a me io nemmeno ho sentito mai dalla presidenza un un intervento di questo tipo però sarebbe bello che la ministra rispondesse ai quesiti che noi poniamo va bene sì eh ha ragione eh chiederò eh lumi rispetto a questa vicenda della 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 di questo spazio verde in via eh in via Campolo così come chiederò eh anche eh eh aggiornamenti rispetto a questa vicenda della dei lavori in via eh Mericamari che sono eh fermi io ricordo benissimo quella seduta la volontà di collaborare si parlava anche di un intervento eventuale in piazza Luigi Sturzo successivo a questo ma siamo ancora in una fase in cui questi lavori in via mare non sono stati completati quindi è difficile poter programmare nuovi lavori eh se poi non vengono fatti eh completati quelli già in in cantiere va bene allora eh intanto nel frattempo io passo alla nomina del collegio degli scutatori allora eh propongo come scutatori i consiglieri allora eh schembri eh governale e amore ci sono osservazioni obiezioni rispetto a questa proposta non ci sono osservazioni obiezioni quindi il consiglio nomina questo collegio di scutatori così composto schemi governale amore allora io vi ricordo che oggi c'è la via Enrico Albanese e domani c'è un'altra via abbastanza impegnativa che è la via Francesco Laurana parlo dello spazioamento meccanizzato vi dico inoltre che dovremmo fare avere una una proposta visto che hanno eh sospeso le call conference e una proposta riguardo alle eh alle strade da indicare per la prossima settimana che vada dal 14 al 18 febbraio siccome loro il mercoledì eh pubblicano il calendario bisogna fare avere queste proposte diciamo penso entro oggi pomeriggio quindi eh non è che noi per forza dobbiamo fare una proposta di cinque giorni su cinque non è che ce l'ha ordinato eh qualcuno a al netto di questo avevamo già io ho già fatto delle 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 proposte per quanto iniziere chiedendo via delle croci e via Marchesi Villabbiac se ci sono delle eh proposte eh invi inviate mele via email e e e anche diciamo perché eh bisognerà fare una se ci sono più proposte per una scrematura o valutarle insieme come voi sapete diciamo si preferisce delle strade non parto io per quanto mi riguarda ma in qualità di presidente eh diciamo eh mi sento in dovere di fare delle osservazioni rispetto al fatto che sarebbe inutile fare sempre strade lunghe come la via Principle a Ternò perché non si finisce e se non si arriva a finirle visto che la rap non non interviene eh in tempi diciamo eh così eh ragionevoli eh e eh provare a fare delle strade che sono diciamo appannaggio qui il posto è già appannaggio dei residenti questi due sarebbero delle priorità ecco dei requisiti non dei requisiti perché laddove eh questi due requisiti sono stati eh diciamo rispettati ci sono avuti dei risultati positivi strade pulite e pochissime multe e penso che sia questo diciamo l'obiettivo strade pulite grande tensione dei residenti e pochissime multe se noi riuscissimo a eh come dire centrare sempre questo obiettivo e riusciremmo poi ad avere dei risultati anche strade più complicate perché si spargerebbe poi la voce ci sarebbe il passaparola quindi io ho proposto via delle croci perché mi sembrava una strada meno impegnativa rispetto a via Principle di Paternò più piccola e poi perché c'è una grande c'è un numero di alberi che fanno un sacco di fogliame quindi è una strada che necessita di essere pulita eh approfonditamente perché poi c'è la resina eh ci sono tutta una serie di di aspetti del fogliame che 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 con la spazzatrice si possono eh si può diciamo eh affrontare in modo efficace non solamente con lo con lo spazzamento. Io perché sia la bianca era stata impegnativa però era stata in cui c'è la diciamo su una su una parte c'è la la corsia preferenziale quindi secondo me eh si può diciamo provare a farla via perché sia la bianca. Se ci sono delle strade eh da parte vostra me lo me lo fate sapere e me lo inviate via mail e poi e poi e farò una provo a fare una sintesi con l'amministra con con la rap alla rap. Allora se non ci sono eh comunicazioni noi possiamo proseguire l'ordine eh del giorno. Allora allora ci sarebbe c'è ci sono question time innanzitutto? sì presidente. Ok c'è solo il consigliere longa ce ne sono altri? Va bene. Anche io. Ok va bene. Allora dottoressa se possiamo procedere con il prelevo del punto numero tre question time con l'appello nominale visto che siamo in videoconferenza. Frasca Polara. Favorevole. Amore. Favorevole. Di Napoli. Favorevole. Forzinetti assente. Gallè. Gallè. Favorevole. Governale. Favorevole. Longo. Favorevole. Alumbo. Favorevole. Romano. Favorevole. Cambri. Favorevole. Nove favorevoli un assente. Allora l'assente va bene ok un assente quindi perché consigliere forzioni si è scollegato giusto? Ok va bene. Ok va bene. Allora consigliere Longo poi consigliere Amore in ordine di peronotazione. Sì presidente se se può fare intervenire per favore prima Amore che io. Ok va bene. Ok. Mi sto organizzando. Va bene. Consigliere Amore. Sì grazie presidente. Eh ieri ehm essendo in prossimità via Albanese hanno segna mi hanno insegnato lo spazzamento in via Giovanni Raffaele che è da parecchio che non non si non mi era effettuato e poi eh una buca sul marciapiede in via libertà eh in prossimità di via principe di Pasarno che è abbastanza eh pericolosa perché prima era ricoperto di fogliame poi eh hanno domeniche vanno pulito fatto di libertà e quindi si 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 vede che che avrebbe bisogno di essere quantomeno messo in sicurezza. Grazie. Ok. Va bene quindi via libertà e la buca e via Raffaele la lo spazzamento va bene. Mi manda la nota quindi le note? Sì sì di pomeriggio le mando le note. Ok grazie grazie. Consigliere Longo prego. Grazie presidente. Io volevo segnalare innanzitutto un guasto alla pubblica illuminazione in via San Polo altezza civico civico 120 e un punto luce spento e poi due segnalazioni relative allo spazio verde in via autonomia siciliana altezza via via Mariano D'Amelio e stavo ricordando invece il toponimo del dello slargo e il largo la loggia grazie e uno è un un sollecito relativo alla pulizia manutenzione del verde da parte del settore verde del comune di Palermo che non ha mai preso in carico la manutenzione del verde nelle aigone e avevamo già fatto una richiesta ma non sono mai intervenuti quindi faccio un sollecito in merito e poi volevo segnalare che la fontanella che è stata collocata dall'AMAP non è più funzionante quindi volevo chiedere per quale motivo non fosse funzionante chiaramente domandare il ripristino della funzionalità della fontanella eventualmente sulla consigliere per richieste per farò delle mail posso dire questo allora io ricordo perfettamente che lei ha presentato a ottobre una richiesta per quanto riguarda la fontanella di via di questo presente in questo spazio verde che si trova appunto tra via l'autonomia siciliana largo la loggia via morselli e via da meglio quindi da questo punto di vista io posso riprendere questa richiesta e farne un sollecito per quanto riguarda la pulizia diciamo il diserbo dell'area perché ovviamente con le piogge non essendo stata come detto lei mai curata in termini di verde almeno se non in occasione dell'inaugurazione che c'è stata qualche mese addietro e appunto la vegetazione è necessita di essere di essere curata ora lei la può presentare una richiesta perché ricordo che ne parlammo però poi diciamo non abbiamo avuto modo di approfondire quindi se mi se mi se mi presenta una 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 richiesta se non la faccio io la richiesta facendo la richiesta via mail ok invece per quanto riguarda la fontanella a ottobre ha presentato una richiesta chiedendo il chiedendo nel ripristino e non fu dato seguito quindi io mi prendo la briga sulla fontanella ricordo di avere chiesto in un intervento perché non funzionava bene mentre invece adesso proprio non 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 c'è alcun getto d'acqua quindi sono due richieste diverse ma siccome sempre la map ne cura la gestione la manutenzione che sono fontanelle della sono fontanelle della ma gestite da messe dalla map e gestita la map a maggior ragione visto che a ottobre era malfunzionante oggi non lo è completamente del tutto dico a maggior ragione bisogna tornarci di sopra e chiedere alla map di intervenire perché fosse fossero intervenuti tempestivamente magari non ci troveremmo nelle condizioni che lei lamenta quindi bisogna appunto sollecitare la map ad intervenire visto il lasso di tempo trascorso e visto che la situazione si è diciamo peggiorata ne approfitto mi perdoni per dire anche a lei perché mi è arrivato una chiamata da la map per tele una chiamata telefonica in cui mi è stato detto che sono intervenuti per modo di dire intervenuti in una fontana che si trova in diciamo in vicino come lei sa alla scala antica per il pellegrinaggio a Santa Rosalia quindi ci troviamo in questo slargo che si chiama Sellerio. Loro mi hanno detto che hanno fatto una verifica e che comunque questa fontana non è di loro non sono loro titolari della fontana ma è una fontana preesistente quindi dovrebbe appartenere al dovrebbe essere di competenza della città storica o di altri uffici tecnici del comune e c'è a loro dire c'è un guà una diciamo la necessità di intervenire proprio sul manufatto perché a loro dire ci sarebbe un diciamo un danneggiamento non tanto all'impianto idrico quanto proprio nella struttura della della fontana. Io ho chiesto di mettere per iscritto chiesto di mettere per iscritto così da potere chiedere alla alla a chi di dovere a chi di competenza un intervento non è stato mai inviato mi non mi è stato mai inviato questo questa risposta da parte l'amap quindi ad ogni modo bisognerà fare un'altra richiesta al coime oppure si al coime all'ufficio infrastrutture vedremo chi bisognerà farlo per per sollecitare un intervento proprio sulla struttura della di questa fontana perché a loro dire è la struttura che è compromessa che ne compromette diciamo il funzionamento quindi ora a questo punto o lo fa lei o approfitto della precedente richiesta sua per scrivere al coime però ecco volevo dirle che l'amap al risposto mi ha detto che non è di loro competenza questo hanno detto però purtroppo non mi hanno mai inviato una nota per iscritto e va bene comunque quindi questa fontana quindi via lì via la fontanella va bene farò un sollecito dicendo che la che la fontana è completamente allasciutto sì presidente se posso in merito io in realtà avevo anche segnalato che appunto c'era una manomissione del delle pietre che compongono dei massi che compongono la 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 fontana e in realtà ho notato che questi 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 massi questi componenti sono messi sono stati posti sono stati rimessi a posto quindi a mio parere almeno dall'esterno sembra che quello che non funziona dovrebbe essere l'impianto idrico che non a questo punto non mi è chiaro se se risulta preso in carico dalla dall'amap oppure no però come giustamente lei evidenziava se c'è qualcosa di diverso e di più dovremmo averlo messo per iscritto in maniera tale da fare le opportune le opportune richieste sa che c'è consigliere a questo punto vi chiedo un sopralluogo e se usciamo dalla malattia chiede un sopralluogo e alla al coime alla all'amap magari su tre che invito ne partecipa uno che la media questa è uno su tre dall'altro quella fontana come lei sa come anche i consiglieri sanno è molto utilizzata è molto utile non solo per l'approvvigionamento idrico ma proprio anche per 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 gli sportivi per gli sportivi perché lì ci sono molti ciclisti quello è un un percorso un itinerario molto battuto dai ciclisti che si allenano sulla strada che porta poi sulla salita che porta a monte pellegrino i i fedeli che appunto partono da lì per per la salita a monte pellegrino oltre che è ovviamente per i residenti che utilizzano che utilizzavano la fontana anche per l'approvvigionamento di acqua potabile e poi ha anche un valore storico questa fontana non è una fontana messa lì di recente una fontana che avrà non so quanto da quanto tempo è stata collocata quindi o è evidente che ha anche un valore storico che va preservato quanto meno preservato e va bene allora ci sono altre richieste question time se non ci sono allora scusate perché qua ci sono state una serie di movimenti la dottoressa il segretario si è allontanato e ha scritto in chat chiedo venia allora ero fermo a schembri che si si è scollegato va bene alle 13 e 58 la consiglia romano che esce alle 14 02 e la dottoressa conforti che esce anche lei che si scollega scusate meglio dire si scollega e alle 14 02 or bene sono le 1406 quindi il segretario sono il segretario quindi sì a partire segretario ecco lo mettiamo qua segretario consigliere gallè perfetto va bene allora e se non ci sono altri interventi a questo punto visto visti gli impegni che consigliere amore ha alzato la mano pre si presenta gli anni fuori dal question time leggevo che ci settimana entrate ci saranno delle riprese delle viste di un di una serie tv in città o 12 che fanno dal 14 al 19 ma se interesseranno strade in cui si parà lo spazzamento ha avuto modo di avere oramai abbiamo questa deformazione ormai c'è questa deformazione se c'è lo spazzamento ok non lo so posso vedere posso vedere quali dalle uffici dell'ordinanza del nucleo traffico e quali strade interessano posso vedere in diretta se siamo fortunati sala allora serie tv la ragazza di corleone è questa la limitazione circolazione veicolare in varie vie e piazze cittadine per consentire la ripresa della serie tv ragazze corleone programma dal 14 19 febbraio integrazione all'ordinanza 72 del 27 gennaio ora la esaminerò ovviamente faremo un vieremo piazza marina salita della intendenza via bartolozzi via ruggero loria quindi a un tiro di schioppo dalla dalle abitazioni alcuni consiglieri via l'orizio juvar via ammiraglio nicastro via pietro bonanno via padre giordano cascini piazza vittorio via pietro novelli spianata della sagra grotta al belvedere via vittorio manuele quindi non mi pare che ci siano strade interessate dalla spazzamento meccanizzato possiamo cercare anche l'ordinanza 72 se vabbè che se mi consumi magari questa cosa la si potrebbe vabbè comunque 72 allora ci siamo arrivati dal 14 il 19 febbraio la ragazza di corleone io ora fermo la ragazza di bube ora siamo alla ragazza di corleone la ragazza con la pistola visto che è scomparsa monica vitti allora via no piazza marina via cala foro umberto primo salita santi romano piazza della calza porta dei gresci via vittorio manuele via novelli vittoria piazza vittoria via casuzzi all'inserra via inserra via pietro bonanno via bartolozzi quindi vicino da noi sempre in zona quartiere montepellegrino via ruggero loria via luiso juvara via pietro bonanno foro umberto primo dice dei giusti di piazza venire piazza venitore via cala foro umberto primo quindi va bene quindi ha fatto bene comunque a farlo notare anche perché comunque questo provvedimento interessa strade del quartiere montepellegrino strade abitate come via juvara via loria via bartolozzi quindi ha fatto bene a ricordarci o informarci di questo provvedimento perché interesserà i residenti va bene allora quindi se siamo d'accordo possiamo aggiornare i lavori a domani mercoledì 9 febbraio allora chi il segretario da dobbio sostituire schembri come scudatore vabbè sostituisco schemi come scudatore palumbo con suo permesso sostituisce schembri perfetto ok ci possiamo quindi congelare e rivederci domani a domani buona continuazione giornata io presto che non posso interrompere la registrazione perché non sono al computer sì sì l'avevamo l'avevamo intuito quindi chi può inter se il consigliere segretario per le va bene no precedenti io sono al cellulare no 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 ok questo l'ho capito chi è che può interrumpere ho scritto in chat della chiusura dei lavori consideriamo le posti può interrompere no 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 ai neanche io sono col telefonino consigliere di napoli no presidenza io sempre al cellulare io posso fare una cosa mi scollego e vedo di ricordarmi col computer a vedere di chiudere i lavori io quindi che devo fare dobbiamo rimanere registrati ma possiamo penso scollegarci e poi eventualmente comunico se riesco a fare quest'operazione va bene allora e allora ci scolleghiamo all'unanimi come dire all'unisono ok scollegarsi da sé il problema il file della registrazione infatti per la rete per la pubblicazione va bene io mi scollego presidente un attimo che ho acceso il pc e lo faccio io mi connetto con la mail e lo faccio interrompo la registrazione grazie a tutti 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 ok fatto si può interrompere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.